Storia della razza. Il pastore islandese è una razza nazionale i cui antenati arrivarono nell'isola scandinava con i primi vichinghi tra l'874 e il 930. Nel corso degli anni, i rappresentanti di altre razze sono entrati nel paese in numero molto limitato e dal 1901 la loro importazione è stata completamente vietata, il che ha permesso al pastore islandese di rimanere quasi invariato dal IX secolo, soprattutto in aree remote e difficili da raggiungere.Per molto tempo il cane si è adattato al clima, allo stile di vita della popolazione locale e alla sua dura lotta secolare per la sopravvivenza. Negli anni 50, l'inglese Mark Watson, che aveva visitato l'Islanda in numerose occasioni, portò in California alcuni dei migliori esemplari di cani per un ulteriore allevamento, cosa che destò preoccupazione tra gli islandesi, dopodiché iniziarono la selezione mirata del pastore islandese utilizzando accuratamente selezionati individui. Per preservare il cane islandese, nel 1969 è stato fondato il National Kennel Club, e la razza stessa è stata dichiarata parte del patrimonio culturale dell'Islanda. Nel 1972 la razza fu riconosciuta dalla Federazione Cinologica Internazionale e assegnata al gruppo degli spizzerazze primitive, alla sezione dei cani da guardia del nord e da pastore. Nel 1996 è stata iscritta all'American United Kennel Club, e nel 2010 all'American Kennel Club. Al 30 gennaio 2018, 15.949 cani sono iscritti nel registro dell'Organizzazione Internazionale, fondata nel 1996, e impegnata nell'allevamento di pastori islandesi, in 12 paesi del mondo, di cui quasi la metà nati nel periodo dal 2000. Il maggior numero di essi è stato registrato in Danimarca, Islanda e Svezia. La razza è ancora molto scarsa, ma non può più essere considerata in via di estinzione. Il pastore islandese, o pastore islandese, è un'antica razza di cani da pastore portata in Islanda dai vichinghi nel IX secolo. Questi cani robusti e agili sono addestrati per pascolare e proteggere il bestiame, per trovare pecore smarrite. Non aggressivo, amichevole, arguto. Vanno d'accordo con i bambini piccoli, prendendosi cura di loro come tate. In condizioni urbane, non sono praticamente contenuti. Hanno bisogno di spazio. Punti salienti e fatti interessanti. Il pastore islandese è la 166esima razza dell'AKC Club. La razza è l'unico cane indigeno islandese. La razza è arrivata in Islanda con i vichinghi. È anche conosciuta come il cane vichingo. Nel paese di origine, il pastore islandese era raffigurato sui francobolli. Esistono due tipi di mantello del cane da pastore islandese, a pelo lungo e a pelo corto. Si ritiene che sia una delle razze canine più antiche al mondo. Aspetto? Spitz cane di forma leggermente allungata, di altezza leggermente inferiore alla media, con orecchie appuntite e coda arricciata sul dorso, espressione carina, intelligente e contenta. Può essere a pelo corto e a pelo lungo. Il dimorfismo sessuale è pronunciato. L'altezza ideale algarrese dei maschi, è di 46 centimetri, le femmine sono 42 centimetri, i maschi pesano circa 14 chilogrammi, le femmine circa 11 chilogrammi. Le gambe sono dritte, parallele e forti, con corretti angoli di articolazione. Le zampe sono ovali, arcuate, raccolte in una palla, con densi cuscinetti elastici. Gli speroni delle zampe anteriori possono essere doppi. Il pelo è doppio, spesso, piuttosto ruvido, protegge bene il cane dalle intemperie. Ci sono due tipi di corto e lungo. Nei cani a pelo corto è folto, con pelo di guardia di media lunghezza e sottopelo morbido. Capelli più corti sul viso, parte superiore della testa, orecchie e zampe anteriori, più lungo sul collo, sul petto e sul retro delle zampe posteriori. La lunghezza del pelo sulla coda è proporzionale alla lunghezza totale del mantello. Nei cani a pelo lungo il pelo di copertura è più lungo, con un sottopelo spesso e morbido, più corto sul muso, sulla parte superiore della testa, sulla parte anteriore delle orecchie e degli arti anteriori, più lungo sul retro delle orecchie, sul collo, sul petto, sul retro delle zampe anteriori e posteriori. Il mantello sulla coda, è molto fitto e la sua lunghezza è proporzionale alla lunghezza totale del mantello. Il colore è rosso, varie tonalità, dal crema al bruno rossiccio, marrone cioccolato, grigio e nero. Il colore predominante è sempre accompagnato da macchie bianche, più spesso localizzate sul cranio o sul muso, sul petto, punta della coda, e forma anche un colletto bianco e calze bianche di diversa lunghezza. Sulla parte inferiore del corpo, dalla gola alla punta della coda, il mantello è di tonalità più chiara. I cani rossi e grigi possono avere una maschera nera, estremità nere del pelo di guardia e peli neri radi. I cani neri hanno segni bianchi e tradizionali segni di abbronzatura sugli zigomi, sopra gli occhi e sulle zampe. Diciamo un colore variegato con macchie dei colori indicati su fondo bianco. Il colore bianco non può essere solido e predominante. Tratti caratteriali distintivi. Cane da pastore robusto, non aggressivo, socievole, arguto, curioso, giocoso, vigile e agile con un istinto di caccia poco sviluppato. Usa la sua voce nel suo lavoro, il che la rende estremamente utile quando pascola o guida il bestiame negli alpeggi, e quando cerca le pecore smarrite. Va d'accordo con i bambini piccoli, fungendo da tata. Può essere un buon guardiano che allerterà uno sconosciuto con un sonoro allarme che abbaia e fungerà da recinzione vivente attorno al territorio della sua famiglia. Il pastore islandese si sforza sempre di proteggere i cuccioli di bestiame, in particolare, dall'attacco di uccelli rapaci, quindi osserva e abbaia sempre a tutto ciò che si avvicina dall'alto. Questa è la sua caratteristica. Manutenzione e cura. Il pastore islandese prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Il pastore islandese ha un doppio pelo abbondante con un pelo esterno più lungo e uno spesso sottofondo. I pastori islandesi muoiono parecchio, specialmente durante la stagione della muta, che si verifica due volte l'anno. Spazzolare settimanalmente ai soliti orari e quotidianamente durante la stagione della muta, aiuterà a rimuovere lo sporco e i peli arruffati e a mantenere il tuo cane al meglio. Come con tutte le razze, le unghie devono essere tagliate regolarmente, poiché le unghie troppo lunghe possono ferire il cane. I pastori islandesi amano le attività all'aria aperta e sono ottimi compagni di lunghe passeggiate o escursioni. Un moderato esercizio quotidiano li aiuterà a mantenerli sani e felici. Queste possono essere passeggiate e sessioni di gioco. Questa razza allena anche la mente e il corpo partecipando a sport canini come obbedienza, pascolo, stalking, agilità, rally e altre attività che il cane e il proprietario possono godere. Si raccomandano lezioni di socializzazione precoce e addestramento dei cuccioli per aiutare a rendere il pastore islandese un compagno ben adattato e ben educato. Gli islandesi sono agili, intelligenti e desiderosi di compiacere il proprietario, quindi di solito sono facili da addestrare. Non rispondono bene a metodi di insegnamento duri. A loro piace stare con la loro famiglia, non dovrebbero essere lasciati soli per molto tempo. Salute. I pastori islandesi sono generalmente cani molto sani. Possono essere predisposti a una serie di condizioni, tra cui la displasia dell'anca e del gomito e la lusazione della rotula. Gli allevatori responsabili controllano la loro mandria per le malattie che possono verificarsi nella razza. Le orecchie di un islandese dovrebbero essere controllate regolarmente per segni di infezione e i denti dovrebbero essere spazzolati frequentemente con un dentifricio progettato per i cani. Visite veterinarie regolari per controllare e controllare i parassiti aiuteranno a garantire che il tuo cane abbia una vita lunga e sana. Prezzo e come acquistare correttamente. Non è facile acquisire un piccolo islandese, poiché ci sono pochi asili nido. Per un cucciolo, è meglio rivolgersi a canili specializzati situati in Danimarca, Svezia, Islanda o Stati Uniti. Un allevatore coscienzioso fornirà sicuramente la serie necessaria di documenti. Pedigre e dei genitori, certificato di nascita del cucciolo e prova del pedigre e dell'animale. Il costo di un cucciolo, può variare dai 400 ai 600 dollari americani, a seconda dello stato del canile, e delle prospettive del bambino stesso. Non è consigliabile acquistare cani offerti tramite pubblicità e a mano, poiché i cani islandesi di razza, vengono spesso incrociati con diversi tipi di huschi. Solo un addestratore di cani esperto può distinguerli visivamente. Linea di fondo. Il pastore islandese è una razza di cane di tipo spitz discendente dai cani portati in Islanda dai vichinghi. È simile al buung norvegese, allo Shetland Shepdog e al Veshkorgi. Sono comunemente usati per il pascolo delle pecore nelle campagne islandesi. I pastori islandesi sono duri ed energici. Robusti e agili, sono estremamente utili per pascolare e inseguire il bestiame o trovare pecore smarrite. Sono molto vigili e accolgono sempre calorosamente i visitatori senza mostrare aggressività. Il simpatico e allegro pastore islandese è curioso, giocherellone e senza paura. Di solito vanno d'accordo con i bambini, e con altri animali domestici.